benvenuti ho il piacere di darvi il benvenuto a questo webinar che conclude una serie di eventi formativi realizzati nell'ambito del progetto informazione e formazione per la transizione digitale della pia in particolare della linea 3 dati e documenti delle pia un'attività con la quale form expia ha supportato l'agenzia per l'italia digitale nella diffusione della conoscenza per l'attuazione delle linee guida sulla formazione gestione e conservazione dei documenti informatici e a tale proposito è qui con me luigi avena di agit che ha con me collaborato e anche col form ex in rappresentanza di agit con il form ex a appunto a organizzare questa serie di eventi e questi cicli formativi luigi sarà con noi anche nella fase finale buongiorno luigi sarà con noi anche nella fase finale nella fase in cui daremo risposta alle vostre domande luigi appunto tornerà più tardi ma insieme concludiamo così oggi una serie di eventi formativi certamente come avete potuto vedere tutti molto partecipati e anche oggi vedo che cominciamo ad essere tantissimi state entrando in aula e vi vedo sempre più numerosi una serie appunto di eventi dicevamo che sono appunto spero che siano stati graditi e che ho qui cercato di riassumere e appunto di fare una specie di micro di micro bibliografia di quanto è avvenuto anche per potervi dare permettervi di andare agevolmente a ricercarli e di rivedere i link appunto abbiamo fatto lo scorso anno abbiamo messo appunto una serie un ciclo di webinar per passare poi a febbraio 2023 a un corso online di tipo massivo un corso che ha cercato di fornire delle pillole introduttive al tema per comprendere i concetti fondamentali e i meccanismi operativi che compongono un efficace sistema di gestione documentale e ciò naturalmente lo abbiamo affrontato e visto nei suoi aspetti archivistici normativi tecnologici e organizzativi per poter dare per poter cercare di dare speriamo di essere riusciti a farlo ai partecipanti dei primi elementi utili per affrontare la materia in generale con i cicli di webinar sia con quello precedente al corso che quello al suo interno che qui è rappresentato sono 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 elencati i webinar eh abbiamo voluto mettere l'accento su attività quotidiane e fornire quindi degli approcci concreti cercare cioè di dare un taglio più pratico possibile a supporto di aspetti degli aspetti magari più complessi anche attraverso le la presentazione di esperienze e di buone pratiche la partecipazione è stata davvero notevole sia numericamente che come quantità e qualità dell'interazione un'interazione che comunque ha fatto emergere nettamente eh Luigi credo che insomma le abbiamo visti insieme abbiamo poi concordare eh non solo attraverso partecipazione e domande ma anche attraverso i questionari via via somministrati il notevole fa non solo l'interesse ma anche il notevole fa bisogno informativo e formativo relativo a questo argomento in particolare poi per la necessità di eh adeguarsi eh ai diversi adempimenti ehm dei contenuti nelle linee guida eh sono state appunto fatte numerose richieste anche nei questionari di come dire riapprofondire ricontinuare pronto le appunto eh le contenuti e le linee guida che come noto sono un documento lo ribadiamo anche stavolta fondamentale nei processi di digitalizzazione delle pratiche amministrative e come sappiamo hanno lo scopo di favorire la transizione ad un'amministrazione pienamente digitale. Abbiamo potuto vedere tutti insieme grazie a questo primo percorso formativo che si tratta di conoscenze abilità e competenze di vario genere piuttosto articolate direi che riguardano diversi ambiti. Ci è sembrato dunque opportuno e speriamo utile per il futuro continuare ad approfondire con esperti del settore quello che è uno dei principali fattori abilitanti in quella in questo ambito cioè quali conoscenze competenze e abilità debbano essere possedute, aggiornate, rafforzate per migliorare la qualità stessa della gestione documentale e quindi i processi di trasformazione digitale. Di che parliamo? Parliamo delle competenze e conoscenze tecnico archivistiche, di quelle giuridiche, di quelle organizzative, di quelle informatiche che i responsabili settore devono possedere come precisato anche nelle linee guida. Ma parliamo anche delle conoscenze e competenze sul tema che tutti coloro che operano nell'EPA a qualsiasi livello devono avere ciascuno per il proprio ambito di attività e questa è una cosa molto importante e si tratta però in molti casi di aspetti che molte amministrazioni hanno sottostimato e non si tratta peraltro solo di definire requisiti in termini di conoscenze di base ma anche di riuscire a considerare le forme di acquisizione dei profili necessari all'interno dell'amministrazione e di assicurare nel tempo l'aggiornamento delle conoscenze e delle abilità in un ambiente dinamico e multidisciplinare. Dinamico è forse dire poco ma comunque si tratta di un cambiamento che è continuo ed è un cambiamento per tutti e per parlare di tutto questo sono con noi oggi tre esperti, molto esperti, molto formatori, più che esperti del settore che ringrazio fin d'ora per aver accettato di essere oggi qui con noi e sono Gabriele Bezzi, Mariella Guercio e Gianni Penso Doria. Con la professoressa Guercio affronteremo il tema delle conoscenze per la gestione documentale mentre a seguire il dottor Bezzi ci introdurrà alle conoscenze necessarie per la conservazione. Infine il dottor Penso Doria ci offrirà un panorama delle conoscenze organizzative necessarie per gestire al meglio la relazione tra procedimenti amministrativi e gestione documentale, un tema spesso spinoso all'interno delle organizzazioni, delle amministrazioni e come sempre vi ricordo vado a finire che potete porre le vostre domande sul tema nella chat e che risponderemo con i nostri esperti al termine e le slide e la registrazione dell'evento saranno disponibili a partire immediatamente dopo dal pomeriggio e nella stessa pagina di Eventi PA e per finire permettetevi di ricordarmi come bella notizia, come buon auspicio per il prossimo futuro, l'importanza di conoscenze e competenze che è stata evidenziata dal Ministro per la pubblica amministrazione proprio da poco in una direttiva dedicata proprio alla formazione. Io per ora ho finito, prego Mariella, ringrazio ancora Agid per la collaborazione che abbiamo avuto oggi ma anche nel periodo precedente. Prego Mariella di attivare la webcam e ci vediamo dopo. Prego Mariella, grazie ancora per essere qui con noi. Bene, grazie. Grazie moltissimo, grazie per questo invito, sempre interessanti questi momenti di confronto e poi vorrei dire solo un paio di considerazioni introduttive prima di entrare nel merito della mia presentazione. Innanzitutto l'idea di chiudere questa impegnativa, rilevante iniziativa di Agid con un incontro dedicato ad approfondire le figure uguali necessarie alla trasformazione digitale dal punto di vista delle conoscenze, abilità, competenze necessarie perché la trasformazione si sviluppi realmente, concretamente e anche correttamente ecco, aver deciso di chiudere così è una scelta molto apprezzabile, molto apprezzata da chi per esempio come me ha lavorato e lavora proprio nel formare, nel sensibilizzare le amministrazioni e gli operatori sulla necessità di continuare a tenersi aggiornati di avere il quadro dei problemi nell'ambito della crescita personale e professionale. Ecco, la presenza è molto rincuorante, la presenza di tanti partecipanti anche a un incontro così specifico. Il mio compito è quello oggi di ragionare con voi, come ha detto prima Alessandra, sulle conoscenze e abilità per la gestione documentaria. Allora, la gestione documentaria è senza dubbio, l'ha detto anche Alessandra, un fattore abilitante della trasformazione digitale, un presidio, un ancoraggio concreti e operativi, soprattutto, anzi quasi esclusivamente, se gestiti con cura e competenza, per proteggere la fragilità dei patrimoni informatici. Le ragioni sono note, sono ampiamente discusse e certamente lo sono state nell'occasione dei tanti webinar che hanno preceduto quest'ultimo momento formativo. Si tratta di un'affermazione quindi che non ha bisogno di essere suffragata da altre considerazioni. A proposito del ruolo centrale che la gestione documentaria ha come presidio e garanzia del processo decisionale, della trasparenza, della rendicontazione e naturalmente anche della persistenza delle memorie documentarie. Ma chi presidia questa funzione? Soprattutto, appunto, quali conoscenze, quali capacità devono possedere coloro che la coordinano, ma anche coloro che collaborano nello staff, per esempio, nel team che lavora nel sistema di gestione documentale e anche quanti altri al di fuori del team specifico in un'organizzazione sono chiamati a contribuire consapevolmente, quindi che cosa dovrebbero sapere per poter collaborare in modo efficace, per poter partecipare in modo efficace alla costruzione di un sistema effettivamente efficace ed efficiente. Esistono regole e indicazioni nazionali ed europee che ci aiutano a ottenere questi livelli di qualità, a valutare anche la qualità delle competenze e conoscenze. Ecco, naturalmente, oltre a quelle previste alle indicazioni, previste dalla, e penso soprattutto al responsabile della gestione documentale, oltre a quelle previste dalla normativa specifica, dal testo unico, dalle linee guida già citate, sono note sicuramente alla gran parte dei partecipanti oggi che hanno sicuramente anche seguito i precedenti momenti di formazione, quindi non entro nel merito dei compiti del servizio, del fatto che il servizio debba essere formalmente affidato all'interno dell'APA a una figura riconosciuta autorevolmente, che abbia delle conoscenze, come è stato già detto, archivistiche, giuridiche e informatiche, che debba esserci un vicario, un coordinatore e che si debba espletare questa gestione, questa funzione attraverso compiti che qui ho rapidamente riassunto e non mi soffermo su questi, tanto per darvi l'idea, per chi non fosse informato, di quanto è impegnativo questo ruolo, di quante effettivamente conoscenze debbano essere possedute. Il problema è confrontarsi con andare oltre i compiti, il servizio, ma provare a confrontarsi proprio con i problemi reali di acquisizione di conoscenze, di quali conoscenze, cosa deve sapere e cosa deve saper fare chi ha in mano questo ruolo e questa funzione. E quindi ho diviso la mia presentazione in due parti. Una prima, proprio dedicata a cosa deve saper fare chi si occupa in modo diretto, con una responsabilità diretta della funzione documentale e cosa deve sapere e conoscere il dipendente nella pubblica amministrazione che comunque si trova a doversi, si deve confrontarsi con la gestione documentale, con la formazione del documento, con l'acquisizione del documento in un formato digitale, con l'uso di firme diversificate, eccetera. Allora, sono aspetti che hanno bisogno di essere affrontati, di essere inquadrati. Sicuramente ci sono una serie di norme precise in corso di elaborazione, addirittura di standard, che riguardano proprio la figura del responsabile della gestione documentale come poi ci dirà Gabriele Bezzi, riguardano anche il responsabile della conservazione, molto meno strutturato, diciamo, il quadro di riferimento, anche se qualcosa si sta facendo, per quanto riguarda le competenze digitali del settore documentario che devono essere possedute e le abilità collegate da parte dei dipendenti pubblici, che sono un punto o volo fondamentale di supporto, di integrazione e di qualificazione, poi, di questa funzione, che è una funzione, come abbiamo detto, cruciale nel processo di trasformazione digitale. E quindi partiamo dal, appunto, dal responsabile del servizio, che è un ruolo, abbiamo visto, cruciale per la digitalizzazione, naturalmente a condizione che operi in stretta collaborazione con chi coordina la trasformazione dal punto di vista generale, che sia sostenuto internamente, c'è poco da fare, internamente all'ente, da un elevato livello, da un adeguato livello di riconoscimento e di supporto e naturalmente sia in grado, in primo luogo, ma poi sia chiamato, in secondo luogo, a partecipare alle fasi di progettazione, di esecuzione dei processi di trasformazione digitale, di informatizzazione, di definizione dei flussi di lavoro, procedimentali, come poi ci racconterà ancora meglio e bene, in modo approfondito Gianni Penzo. Ecco, quindi partiamo proprio dal responsabile della gestione documentale e dalle sue conoscenze e abilità adeguate. E per fare questo non siamo soli, abbiamo per fortuna un quadro europeo di riferimento sulle competenze, sulle conoscenze, sulle abilità e abbiamo anche delle norme italiane che sono state elaborate nel 2014 e che oggi, proprio in questi mesi, sono in corso di revisione, anche proprio per renderle più semplici, più vicine ai bisogni anche operativi di trovare personale, di informare personale adeguato all'interno delle amministrazioni. Queste norme uni sul profilo dell'archivista che in realtà poi trattano anche la figura del responsabile della gestione documentale, della figura del record management, per usare un termine internazionale, molto conosciuto anche a livello europeo. Quindi il punto è le domande chiave, quali sono i compiti? Abbiamo detto che lo diamo per scontato, ma le abilità e le conoscenze all'interno di questo quadro, cosa vuol dire essere adeguati nel profilo? E come si valuta l'adeguatezza? Chi la valuta l'adeguatezza? Chi potrebbe o dovrebbe valutarla? E ancora il problema dell'autonomia e della responsabilità con cui sia il responsabile, sia le parti, i profili che fanno capo al suo staff devono disporre, sono in grado di disporre e di gestire nell'esercizio delle loro funzioni? E come poi si valuta l'aggiornamento di questo profilo? Perché come tutti coloro che si occupano di documenti, e di informazioni? Nel mondo attuale, è un mondo di continua trasformazione, anche molto rapida, è un mondo che richiede aggiornamento. E naturalmente poi come facciamo, una volta avendo a disposizione figure chiave, come facciamo poi queste conoscenze documentali a diffondere, a condividere all'interno della nostra organizzazione, con i nostri utenti, con i nostri cittadini. Allora, per potersi capire, quindi questa è la norma UNI di cui vi parlavo, è una norma che prevede anche la capacità di organizzazione, di monitoraggio e di progettazione, e soprattutto quali sono i termini di cui parliamo, che vuol dire abilità, che vuol dire conoscenza, che vuol dire autonomia e responsabilità nella gestione del nostro lavoro, dei compiti che ci sono stati affidati. Allora, io le ho messe qui a disposizione, in un tempo è poco, non possiamo approfondirle, però per capirci, abilità vuol dire capacità di applicare conoscenze. Quindi le conoscenze dobbiamo averle e dobbiamo acquisirle attraverso delle forme anche diverse di apprendimento. Una conoscenza è appunto il risultato della similare informazione, informazione in questo caso professionalmente elevate o qualificate, specifiche, con interventi di apprendimento, iniziative di apprendimento che possono essere e devono essere in alcuni casi formali, quindi all'interno di un sistema di formazione che può essere universitario, ma può essere anche legato a istituzioni di alta formazione, come per esempio le scuole degli archivi di Stato, che sono delle vere e proprie agenzie di formazione e che proprio in questo anno, in passato e in corso, hanno avviato una nuova figura, un nuovo percorso di formazione gratuito di archivista contemporaneo, mentre prima la figura, quindi del record manager, con una serie di, e considerate che è una formazione gratuita, a differenza di quella universitaria e normalmente di quella poi gestita dalle agenzie formative di diverso profilo. E sono comunque sempre, quando parliamo di apprendimento formale, sono processi conclusi con un'attività di certificazione. Poi c'è la formazione informale, lo svolgimento che si ottiene nello svolgimento delle situazioni di vita quotidiana, nelle interazioni con il luogo di lavoro, e quella non formale, che è qualcosa di diverso, che vuol dire apprendimento, vuol dire un apprendimento come quello che avete ottenuto attraverso i webinar, sostanzialmente. Quindi la competenza e la capacità comprovata di utilizzare le conoscenze e le abilità, l'autonomia e la responsabilità, vabbè, non occorre neanche entrare nel merito e spiegarle. E allora, la norma uni sulla responsabile della gestione documentale, che cosa ci dice? Ci dice che ci sono due grandi finalità per il responsabile della gestione documentale. Da un lato, nell'ambito delle conoscenze e abilità che dobbiamo avere, la capacità di governare gli archivi fin dalla fase di progettazione e nella fase di formazione dell'archivio corrente e di deposito. Include tutte le cose che adesso vediamo qui indicate. Capacità, appunto, attività di progettazione, collaborazione. Attenzione, ci sono sempre i richiami alle soft capacity, quella di entrare in sintonia con gli altri, di lavorare in collaborazione, di motivare il personale con cui operiamo, naturalmente. E poi le attività di mantenimento, di controllo, di verifica della qualità. Abbiamo poi i compiti invece, poi, veri e propri, di amministrare il servizio. E qui vediamo che in questo ambito particolare possiamo e dobbiamo avere figure con un diverso livello di responsabilità e di autonomia nella gestione. Comunque, certo, si richiedono conoscenze della normativa, conoscenze amministrative, abilità organizzative di coordinamento, oltre, naturalmente, tutte le conoscenze specifiche di settore. E quali sono queste conoscenze? La norma uni ne individua, qui ne ho elencate soltanto un numero limitato, quelle che mi sembrano fondamentali per la gestione documentale. Sono 67 in tutte, qui vedete che ne individuate poco più che una decina, sono ampie, naturalmente, e declinabili in tanti modi diversi. Teoria archivistica, principi, metodi e tecniche per la gestione documentale, funzionamento degli applicativi, ma poi anche la normativa, poi elementi. Non è che uno deve essere un giurista, ma deve avere elementi di diritto pubblico amministrativo a propria disposizione, a propria disposizione, a propria disposizione, informatica, modellazione dei dati e tantissime altre cose che non posso, per il tempo breve che abbiamo ognuno di noi a disposizione, non posso approfondire. Le abilità, le abilità vanno nel merito, entrano nel contesto dell'attività. Anche qui sono elencate 308 nella norma uni, queste sono le più rilevanti per la gestione documentale, definizione dei flussi, dei metadati, dei livelli di sicurezza. Dico solo tanto per commentare questo elenco, che in questo elenco chi vuole fare un concorso, un bando interno o un bando esterno, troverà gli elementi per scriverlo meglio questo bando, per capire anche di quali figure ha bisogno, che cosa deve saper fare la persona che va reclutando all'esterno o anche all'interno della propria amministrazione. Naturalmente tutto questo deve essere accompagnato da un'attività di attestazione, almeno di attestazione di ciò che sappiamo già, e di certificazione della qualità. La norma uni prevede dei meccanismi, esistono delle responsabilità e delle attività specifiche, per esempio l'Associazione Nazionale Archivistica Italiana ha messo in piedi per i propri soci un sistema di attestazione, il Ministero della Cultura ha nel 19, quando era ancora Ministero per i beni e le attività culturali, ha messo in piedi un avviato, approvato un decreto con degli elenchi, con la cura degli elenchi di scrizione per archivisti, io ho aggiunto record manager responsabili della gestione documentale e su come si verificano quali sono i requisiti richiesti, tre fasce con tre livelli di responsabilità e di autonomia. C'è poi il nodo della certificazione delle competenze e delle conoscenze, questo è un processo in corso nella norma uni revisionata, molto interessante, di cui vi darò solo qualche indicazione molto rapida. Diciamo che questa norma uni sta rivedendo la mappa delle conoscenze, sta semplificando le fasce, che non saranno più tre ma saranno due, quindi una fascia di coordinamento, di capacità di progettazione, una fascia di partecipazione attiva ad un buon alto livello di collaborazione. Naturalmente si vanno definendo anche i criteri di valutazione, di apprendimento, non voglio entrare nel merito, ci sono aspetti piuttosto completi, ma solo per darvi l'idea, il punto è che bisogna avere continuità nell'esercizio delle attività per poter continuare a far parte di questi processi. E che cosa si sta anche facendo? È un'iniziativa recentissima in corso di elaborazione, partecipa le associazioni professionali, ma lo cura, lo coordina il Ministero del Lavoro, l'istituzione dell'università, l'AMPA, il coordinamento delle regioni, molte regioni direttamente, un repertorio nazionale dei titoli di, vedete, istruzione e formazione, quindi apprendimento formale, apprendimento non formale per entrare, per acquisire questa qualifica. Naturalmente queste sono piccole indicazioni che non possono essere ovviamente esaustive. e cosa facciamo, cosa abbiamo fatto finora per non solo i professionisti, diciamo, dell'archivio informatico, della gestione documentale o della conservazione, ma per le conoscenze e abilità documentarie diffuse. Allora, io lo considero sempre un'iniziativa molto importante, ho partecipato anche insieme al FORMET, è il syllabus. Il syllabus delle competenze digitali dei dipendenti pubblici, ma anche in qualche modo dei cittadini e c'è un'area, l'area che qui vi illustro, non vi illustro, vi faccio vedere semplicemente, l'area delle competenze in materia di gestione documentale, documentarie in generale. Il syllabus è un'ottima base di partenza. Poi abbiamo iniziative di vario genere, la Fondazione Scuola per i Beni Culturali, che ha elaborato questo percorso, ma esistono tantissime altre iniziative, Procedamus, che viene brillantemente, efficacemente coordinato dal collega Gianni, Penso, Doria, proprio su questa formazione on the job, formazione continua, formazione in formazione delle persone che sono interessate. e poi abbiamo anche un tentativo con cui voglio concludere questo mio intervento, un tentativo per imparare con una formazione che è un apprendimento che insieme non formale e informale, imparando, collaborando, imparando, discutendo all'interno di una comunità che va ancora creata. la comunità dei responsabili della gestione documentale. Proprio nei prossimi giorni, il 18 maggio, nel pomeriggio, dalle 16 alle 17 nell'ambito del forum PA, ci sarà uno spazio a cui tutti voi siete invitati, anche se non ci saranno tantissimi posti per tutti, ma non credo che verrete tutti quanti, proprio per discutere su una rete di competenze da creare dal basso, la rete dei responsabili della gestione documentale, con un'attenzione al profilo tecnico e alle capacità, alle abilità, quindi conoscenze e abilità, proprio per provare a dar vita nelle forme possibili a una comunità potenziale in cui ci si confronta, in cui si discute, in cui si riallacciano fili anche di una vecchia collaborazione che era stata gestita attraverso l'associazione professionale, molte delle istituzioni pubbliche, ma che ha proprio l'obiettivo ambizioso, ma molto, come dire, anche consapevole, siamo tutti molto consapevoli della complessità e della necessità di partire con i passi giusti in modo sostenibile, l'idea di provare a creare un ambiente di condivisione dove si impara moltissimo dalle esperienze reciproche. Diciamo che, è una sfida che noi abbiamo deciso come associazione, come archivisti, come istituzioni anche specifiche di settore di accettare, anzi di avviare, di promuovere, perché riteniamo che non si possa mai affrontare i nodi impegnativi di questi processi di trasformazione se non c'è un confronto guidato, supportato, finalizzato a garantire la qualità dei risultati attraverso la qualità delle persone che partecipano, che si assumono le responsabilità e che collaborano. Grazie dell'attenzione. Grazie a te Mariella, grazie davvero soprattutto per quest'ultima innovazione che riuscirete a proporre al prossimo forum PA, almeno questo tentativo, perché è molto importante che le comunità di pratica, come sai, sono state sempre un punto di forza nell'evoluzione di molte competenze, di molti confronti, di molte attività e sono assolutamente, almeno a mio avviso, sono assolutamente necessarie. Do la parola intanto, subito, poi ci riconfrontiamo alla fine anche con Mariella Quercio e do la parola a Gabriele Bezzi per andare a vedere adesso le conoscenze in maniera più specifica, le conoscenze della conservazione. Buongiorno Gabriele, grazie anche a te per essere intervenuto. Buongiorno, spero che mi sentiate bene e appunto io, come dire, continuo il discorso già avviato da Mariella cercando di affrontare quello che sembra un aspetto specifico, ma in realtà è ampio esattamente come il tema della gestione documentale, del ricompreso, la gestione documentale, cioè di cercare di rispondere alla domanda quali conoscenze per la conservazione. Ovviamente parliamo, ecco, il punto fondamentale per dire, per partire, per rispondere a questa domanda è quale conservazione. Parliamo di conservazione di oggetti digitali, stando appunto al termine delle nuove linee guida, cioè oggetti informativi digitali che possono assumere varie forme, ma sempre nell'ambito del documentale, tra le quali quelle di documento informatico, fascicolo informatico, aggregazione documentale informatica o archivio informatico. È preciso subito che in questa terminologia vuol dire fondamentalmente ragionare sia sui singoli documenti informatici, sia sulle loro aggregazioni o anche diverse modalità di organizzazione delle informazioni che ultimamente, ad esempio, sono sviluppati come ragionamenti, come le basi di dati. Però sempre all'interno di una logica di conservare una memoria digitale documentale per i fini di mantenimento, sia culturale che appunto come patrimonio culturale, perché sono beni culturali tutelati, i documenti pubblici, sia dal lato specifico della peculiarità degli oggetti digitali da conservare. Quindi il tema delle competenze e conoscenze sono questi aspetti fondamentali, ruotano su questi aspetti. Ribadisco appunto, quindi il tema di conservazione va inteso in questo senso, che è il senso definito dalle linee guida, dalla normativa italiana, e può avere appunto, anche se operativamente, delle similitudini, ma a logiche diverse, ad esempio dai termini usati in EIDAS di conservazione esclusivamente a fini di mantenimento di valore proprietario di documenti, conservare il valore delle firme, dei sigilli e così via. Questo aspetto rientra anche nelle logiche conservative, ma l'obiettivo è più ampio, conservare appunto un patrimonio in tutti i suoi aspetti. Su questo tema le linee guida stesse, in particolare più specificamente, anche il regolamento ultimo sulle forniture dei servizi di conservazione, perché ricordiamo appunto la conservazione, cioè l'attività di mantenimento e di protezione nel tempo di alcune caratteristiche dei documenti prodotti all'interno di un sistema di gestione documentale, e le linee guida, e quindi c'è un regolamento, possono essere questa conservazione, può essere effettuata sia all'interno degli enti, o più spesso viene appunto affidata a soggetti esterni specializzati, definiti conservatori, e in particolare appunto ad esempio anche in Regione Emilia-Romagna svolge questa attività per gli enti del suo territorio, e quindi seguendo regole specifiche dettate dall'ultimo regolamento collegato alle linee guida e alla norma e al CAD, che definisce anche delle figure specifiche all'interno dei conservatori, proprio per avere delle competenze specifiche. Ovviamente appunto c'è in realtà all'interno degli enti, appunto titolari e produttori, sto usando le terminologie appunto delle linee guida, c'è la responsabile della conservazione, che può essere anche un ruolo svolto dalla responsabile della gestione documentale, quindi con caratteristiche molto simili a quanto già detto da Mariella Guercio, e poi nei conservatori sono individuati come obbligatorie due figure professionali, responsabili del servizio di conservazione e responsabili della funzione archivistica di conservazione. Per queste figure in realtà il regolamento, in particolare l'appendice dell'allegato A, definisce anche un profilo e dei compiti, questi responsabili del servizio di conservazione che sono per aspetti anche simili a quelli del responsabile della conservazione interno all'ente, definizione e attuazione delle politiche complessive del sistema di conservazione, nonché del governo e della gestione del sistema di conservazione, definizione delle caratteristiche e dei requisiti del sistema di conservazione in conformità normativa vigente. Poi ovviamente, e questo è comune anche alla responsabile della conservazione, poi invece c'è il rapporto come fornitore di servizio rispetto a chi viene erogato, corretta erogazione del servizio di conservazione all'ente produttore, e quindi la gestione ovviamente di tutti gli atti, i contratti, gli accordi che definiscono gli aspetti appunto di erogazione del servizio, e quindi è una visione generale e complessiva, e abbiamo invece, e ci soffermiamo un po' di più, sulla responsabilità della funzione archivistica di conservazione, responsabile della funzione archivistica di conservazione, che dovrebbe essere appunto riconosciuto come l'unica figura attualmente necessaria per i conservatori che poi vogliono erogare servizi di conservazione alla pubblica amministrazione, in precedenza c'erano altri, ovviamente non è l'unica figura necessaria, perché in realtà deve essere accencata da uno staff, ma è il segnale che appunto il valore archivistico, cioè il tema di conservazione di archivi, è un tema che le norme italiane mettono in rilievo di archivi digitali, e anche questo ha dei compiti specifici, definizione e gestione del processo di conservazione, inclusi le modalità di trasferimento da parte dell'ente produttore, verifica di integrità, descrizione archivistica dei documenti e dell'aggregazione documentale trasferiti, esibizione, accesso e frizione, patrimonio documentario, informativo e conservato. Quindi funzioni fondamentali quali l'acquisizione, la verifica, la descrizione e la possibilità di fruire il patrimonio, tipicamente o figure archivistiche. Definizione del set di metadati di conservazione, monitoraggio del processo di conservazione e analisi per lo sviluppo di funzionalità sempre più di valore archivistico e quindi di valore di fruizione del bene conservato e anche collaborazione con il produttore ai fini dei trasferimenti in conservazione, selezione, quindi concetto selezione e scarto degli oggetti eventualmente conservati che possono essere eliminati, in particolare in rapporto con le autorizzazioni previste e quindi la tutela del Ministero dei Beni e Attività Culturali, rimasta questa addizione all'interno del regolamento, in realtà ora Ministero della Cultura per quanto di competenza. Allora per cercare di rispondere appunto alla domanda iniziale mi sono soffermato un pochino appunto sulla questa figura e quindi quali conoscenze deve avere la figura di, ribadisco, responsabile della funzione archivistica di conservazione. È già insito nel suo nome. Scorrendo le specifiche mansioni e i compiti risulta evidente che la figura responsabile della funzione archivistica e di conservazione necessitano competenze archivistiche e che quindi sia una figura professionale che deve essere ricoperta da un archivista, cioè un professionista dotato di una formazione specifica, iniziale e sottolineo continua, nell'ambito della disciplina archivistica e quindi rientrante in quella logica appunto che ha già presentato Mariella Guercia, della figura professionale archivista, normata attualmente e indicata nella norma Uni. Quindi ho cercato di fatto di ragionare, e ovviamente è semplicemente una proposta, non è che sia un elemento da prendere, ma cominciare a dire, allora visto che appunto lo schema è capacità, l'abilità sono capacità di applicare per portare a termine, capacità da applicare per portare a termine compiti, risolvere i problemi, e quindi quali sono i compiti indicati alla normativa per responsabile della funzione archivistica, l'abbiamo visto prima, e quindi quali conoscenze, quindi come abbiamo visto il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento, sono necessarie. E a questo punto ho fatto un giochino molto veloce, devo dire molto rapidamente, e quindi anche soggetto a molte osservazioni e valutazioni, quali sono le conoscenze indicate nella struttura dello standard a punto Uni relativo ai compiti indicati nella normativa, appunto quello che abbiamo visto prima, del responsabile della funzione archivistica di conservazione. Da questo quindi ho estratto rapidamente un piccolo modellino, ovviamente appunto cercando di, come abbiamo visto anche prima da Mariella, di vedere quali sono, e sono tanti in effetti, le conoscenze che dovrebbe avere per svolgere i compiti richiesti. Quindi nella definizione di gestione del processo di conservazione di tutta questa attività, appunto se prendiamo gli elementi all'interno degli elementi di organizzazione e di gestione dei documenti, ci sono questi, quindi teorie archivistiche ovviamente in partenza, elementi di diplomatica, che vuol dire in particolarmente il concetto di diplomatica contemporanea, cioè di conoscenza, attualmente possiamo tradurlo nelle modalità di formazione dei documenti informatici, quindi anche tutto il tema, appunto firme digitali, di copie e così via, principi, metodi e tecniche di gestione documentale e di tenuta e ordinamento degli archivi, parliamo di descrizione archivistica dei documenti, elementi complessivi di organizzazione della conoscenza, perché parliamo di sistemi, e quindi anche elementi di teoria dei sistemi, elementi di informatica, norme tecniche nazionali e internazionali in tema di conservazione digitale e normativi in materia di conservazione dei documenti. Infine, ovviamente, visto che gestisce un sistema, conoscenza approfondita, dei sistemi di conservazione in uso. Ovviamente questi aspetti qua sono conoscenze che uno deve avere, ma non si definiscono i percorsi e quale background uno deve avere, però dovrebbe essere in grado di sviluppare e di apprendere queste conoscenze. Vi ho inserito anche qua nella definizione degli altri due passaggi specifici, definizione dei sette di metadati, di conservazione dei documenti fascicoli informatici, monitoraggio del processo di conservazione e analisi archivistica per lo sviluppo di nuove funzionalità del sistema di conservazione, anche quelli che sono le novità attuali di revisione in ambito di Regione Emilia-Romagna del profilo professionale specifico che è stato definito in base anche al nuovo contratto di lavoro. E per sottolineare questi aspetti, attualmente la conoscenza primaria è fatta da standard e modelli internazionali di riferimento, come penso a OIS, appunto a conservazione a lungo termine di oggetti digitali, o a profili a standard di metadati, penso ai metadati previsti già nella normativa, nell'allegato 5 delle linee guida, ma penso anche allo schema di pacchetto unisincro. E penso anche, però appunto, qua c'è anche un'indicazione, gestione delle immagini, anche tutto il tema dei metadati, informazioni di scambio, anche dei sistemi archivistici e di set generali, in particolare per l'attività di digitalizzazione che possono anche riguardare documentazione analogica storica. E ovviamente tecnologie informatiche relative alle piattaforme documentali, alle piattaforme di gestione dei contenuti e ai sistemi di conservazione, che sono comunque piattaforme di gestione di informazioni. Quindi questi elementi non li ho presi dallo standard UNI, ma li ho presi appunto direttamente dal profilo professionale, in elaborazione adesso in Regione Minerva. Infine, ecco, il tema della selezione, un elemento fondamentale, quindi di collaborare con l'ente produttore e finire il trasferimento in conservazione della selezione e della gestione dei rapporti con il Ministero della Cultura per quanto di competenza, quindi l'elemento fondamentale di conoscere il valore dei documenti, sia da un punto di vista amministrativo, sia da un punto di vista archivistico, ma anche da un punto di vista di prospettiva storica e di valore storico di ciò che ci conserva, di patrimonio culturale. E quindi, come vedete, questi sono alcuni elementi e poi ci sono sviluppati ulteriormente nel punto specifico 5.2 della standard ISO appunto citato in precedenza, cura dei materiali documentari per gli aspetti, cura dei materiali documentari del punto 5.2 che comprende anche gli specifici elementi per gli aspetti digitali. Ovviamente, come dicevo, il termine conservazione è un termine ambiguo che può essere usato e riferito in molti modi. già la conservazione appunto digitale ci sono modelli diversi in Italia e a livello europeo, ad esempio, e anche in Italia le valutazioni possono essere varie, ma c'è anche un termine appunto tipicamente in ambito tradizionale di archivi analogici in cui la conservazione è legata di fatto più al termine dei supporti che invece in ambito digitale non è l'elemento significativo e quindi è più collegata questa voce all'interno ad esempio dell'attuale appunto standard sulla figura professionale dell'archivista che è una voce specifica e corretta, cura dei materiali documentari, ma per molti aspetti è legata ancora a una visione appunto di conservazione di supporti fisici e non strumenti digitali. però vi sono anche elementi specifici di gestione dei processi di conservazione quale lavorare il manuale di conservazione, applicare il manuale di conservazione, progettare e realizzare i processi di tenuta e di migrazione dei documenti digitali e quindi tutti questi aspetti sono all'interno del tema conservativo specifico digitale anche se poi annegati un pochino anche nel tema del restauro. Questo ovviamente è un esercizio di stile fatto molto velocemente però per dare un quadro dell'ampliezza secondo me delle competenze e ovviamente presuppongono che queste figure siano come è stato detto all'interno di uno staff che abbia ovviamente fortissime anche competenze informatiche operative di specifiche sulla gestione dei sistemi informatici sia da un punto di vista di hardware e server sia dal punto di vista dei software che sono la base ovviamente di ciò che conserviamo direi che a questo punto io posso anche fermarmi e vi ringrazio dell'attenzione ho risparmiato qualche minuto che ben volentieri cedo a Gianni Penzodori grazie Gabriele grazie davvero sì poi comunque avremo modo anche alla fine anche con te di riconfrontarci e di vederci anche per rispondere alle domande che via via stanno arrivando Gianni vedo che ha già attivato la sua webcam è già presente e vai Gianni con la relazione tra procedimenti amministrativi e gestione dei documenti per chi bene grazie Alessandra grazie anche a te grazie a Gabriella a Mariella e a Gabriele che ci hanno preceduto a me tocca entrare nel vivo della questione che riguarda una galassia riguardo alla gestione documentale perché perché molto spesso riteniamo io per primo qualche tempo fa che l'attività procedimentale fosse di competenza esclusiva del mondo dei giuristi del diritto dei manager in generale in realtà ha diversi impatti con la gestione documentale tantissime parole che riguardano in generale la nostra attività quotidiana come funzionari pubblici come dirigenti come manager impatta inevitabilmente nella gestione documentale adesso io vi sto mostrando una serie di parole dato informazione documento procedimento provvedimento bene dal momento che l'archivistica non è una disciplina una scienza che tende a occuparsi del singolo documento o della singola parola in questo caso ma mette insieme i legami controlla i legami mantiene nel tempo i legami tra i documenti quello che noi chiamiamo tecnicamente vincolo archivistico cerco da archivista di dare un vincolo a queste parole che in generale ruotano attorno all'amministrazione pubblica bene il diciamo così il principio di provenienza rispetto alla parola alle parole è attività amministrativa per quale ragione? perché ogni volta che noi trattiamo un dato un'informazione un documento un atto un provvedimento un procedimento e a valle un fascicolo archivistico stiamo trattando di gestione documentale quindi tutte queste parole apparentemente slegati partano da un nucleo ma arrivano fino ad un universo oserei dire a una universitas rerum proprio legandolo all'attività amministrativa e partiamo allora da qualche definizione che molti spesso dimenticano oppure hanno una proprietà piuttosto approssimativa riguardo a queste definizioni ovviamente sono tre parole che iniziano per proce per cui per assonanza spesso sentiamo dire nelle nostre riunioni o tante procedure sono impegnate in processi o un sacco di procedimenti e quant'altro in realtà hanno significati profondamente diversi a livello didattico di solito lo spiego tramite la macchinetta del caffè perché procedura è un insieme ripetitivo di azioni sequenziali la procedura ha come base l'essere condiviso la procedura banalissima è una ricetta di cucina o come fare il caffè bene se voi immaginate la caldaia della moca nella quale dovete mettere l'acqua e il filtro poi provate e ovviamente poi il caffè in polvere provate a invertire uno soltanto di questi passaggi e mettere prima il caffè poi l'acqua e poi il filtro vedrete che a parità di azioni il risultato è completamente differente non avrò il caffè ma avrò una brodaglia quindi la procedura è una sequenza ordinata di azioni e chi le fa queste azioni bene siamo di fronte al processo cioè il processo è chi fa le procedure chi fa che cosa all'interno di un'organizzazione pubblica o anche di un'organizzazione privata quindi il processo ha a che fare con uomini mezzi risorse umane risorse patrimoniali risorse finanziarie quindi quando noi parliamo di processi parliamo sempre di persone che agiscono quando invece siamo di fronte al procedimento siamo di fronte a un qualcosa che residua rispetto a una serie di non atti ma di azioni che in base a un principio del diritto amministrativo che si chiama principio di documentalità vengono formalizzate obbligatoriamente in un documento amministrativo quindi il rapporto tra procedura processo procedimento sta proprio qui cioè nei legami del che cosa di chi lo fa e di che cosa residua ecco noi archivisti ci occupiamo in realtà dell'archivio come residuo di qualcosa che è stato agito vi ho mostrato la slide con gli astronauti di Apollo 13 perché quella è un bellissimo esempio di una procedura che viene cambiata da un processo quindi gli astronauti sull'Apollo 13 sull'Odyssey se non ricordo male che devono reinventare le procedure che gli erano stati dati dalla NASA qui sono le definizioni che se preferite molto semplici che sono che trovate in giro e trovate anche in un libro che potete scaricare gratuitamente quindi non faccio pubblicità occulta questo è il libro i procedimenti amministrativi delle università italiane curato da l'EUT la casa editrice dell'università degli studi di Trieste e proprio nell'ambito di procedamus prima Mariella la professoressa Guercio faceva riferimento a quella community e all'interno di questa community il professor Nanetti dell'università Yang di Singapore aveva dato le stesse identiche definizioni di procedura processo procedimento in ambito anglosassone ovviamente svincolate dal diritto amministrativo quale noi lo conosciamo in Italia ma accanto a queste parole ci sono altre tre parole che hanno un influsso notevole nella gestione documentale e sono affare attività e come abbiamo visto procedimento amministrativo sì per quale ragione perché non tutta l'attività amministrativa delle amministrazioni pubbliche è procedimentalizzata cioè noi non facciamo soltanto procedimenti ma facciamo anche qualcosa che non ha come obiettivo un provvedimento finale un provvedimento conclusivo qui trovate una definizione che avevamo dato in quel libro che vi ho segnalato poi magari ve lo metto in chat riferimenti è una sequenza di atti di norma integrata da documenti amministrativi che è orientata a favorire da un lato la trasparenza amministrativa e anche la partecipazione ma anche finalizzata in un tempo predeterminato a un risultato rappresentato in un documento che contiene il provvedimento finale ecco qui trovate tutta l'attività amministrativa che viene svolta perché perché abbiamo a che fare con gli atti amministrativi i documenti amministrativi più tardi se abbiamo tempo vedremo che non tutti i documenti amministrativi sono anche atti amministrativi perché per esempio se arrivano dal privato certamente non hanno la qualifica di atto amministrativo e la legge in modo particolare la legge di riferimento per i procedimenti quindi la legge 241 del 1990 proprio tra i principi generali fa due riferimenti molto importanti alla parola procedimento amministrativo ecco lo leggete tranquillamente sappiate che all'interno della norma c'è una miriade di volte in cui la parola procedimento trova dignità lessicale andate la scorrere e troverete davvero molte scoperte per quanto riguarda la nostra attività a livello di attività amministrativa discende l'azione amministrativa che appunto si divide in attività a fare i procedimenti amministrativi basata su alcuni principi cardine che conosciamo l'economicità l'efficienza la trasparenza la pubblicità ma se voi coniugate banalmente la trasparenza amministrativa con la pubblicità pubblicità legale in questo caso non la pubblicità notiziale avete già il quadro del fatto come la gestione documentale sia l'unico volano che permette concretamente di divenire a una trasparenza effettiva io non sono trasparente se nello statuto di autonomia scrivo il comune rende trasparente i suoi cittadini se poi i documenti vitali non sono pubblicati se poi i fascicoli non si trovano se poi l'ostensione procedimentale del fascicolo non è attivata ecco la trasparenza diventa una parola molto altisonante ma vuota vuota di significato e vi dicevo prima la distinzione tra attività amministrativa la fanno ovviamente i giuristi l'attività è quella generale in potenza mentre l'azione è quella concreta quella che viene posta in atto dai funzionari da noi funzionari nel disbrigo degli affari correnti anche una differenza sostanziale tra attività amministrativa e documentazione amministrativa va ricordata l'attività è ciò che fa o qualcuno potrebbe fare in potenza invece il documento amministrativo la documentazione amministrativa serve a dare prova ovviamente giuridica di ciò che è stato fatto provate a pensare alla distinzione classica tra atto e documento l'atto e la delibera ciò che viene deciso in un collegio amministrativo mentre il verbale è il documento che prova con capacità accertativa attestativa approbatoria quello che è stato deliberato questa è una distinzione fondamentale per noi e a questo punto da archivista vi ricordo che quando noi trattiamo i dati ne abbiamo parlato in accenno prima stiamo comunque facendo un'attività che ha delle funzioni archivistiche al suo interno perché molti dicono trasparenza è pubblicare tutto in maniera indistinta no la trasparenza non significa metto tutto online ma metto online a disposizione del quisque de populo quello che la legge mi impone di mettere quindi il dato deve essere reso disponibile attraverso una funzione archivistica che si chiama selezione quindi io seleziono per poter avere il mio dato e questo è fondamentale proprio per garantire l'attività di trasparenza come noi la intendiamo la intendiamo in maniera archivisticamente sostenibile e a questo punto i controlli della trasparenza della corruzione dove si fanno? si fanno sui processi o sui procedimenti amministrativi? bene anche qui c'è una grossa devo dire modernamente possiamo chiamarla fake news del fatto che i controlli si possono fare sui procedimenti nessun funzionario sarebbe in grado di scrivere un documento in cui dice vista la mazzetta da 5.000 euro il procedimento viaggia più veloce no i controlli si fanno nella parte più opaca dell'azione amministrativa che appunto è il processo di cui non rimane traccia mentre la documentazione amministrativa è persistente per intrinseca natura il processo una volta che io agito si perde si perde e poi vedremo alla fine di questa chiacchierata quali sono le conseguenze su ANAC per la selezione qualche tempo fa un paio di anni fa avevo scritto sui dati seguendo una logica archivistica proprio la differenza che c'è tra lo scarto dei dati e la selezione di documenti perché perché capita spesso di sentirsi dire dobbiamo distruggere i dati bisogna eliminare tutti i documenti che contengono dati guardate che come abbiamo visto prima è impossibile che un documento amministrativo non contenga dati quindi se passa questa logica anti archivistica dovremmo cancellare andare verso un eclissi delle memorie assolutamente irrazionale no la legge impone la eliminazione dei dati non certo dei documenti amministrativi anzi lo stesso GDPR ha proprio dei considerando precisissimi sulla conservazione dei documenti amministrativi anche a fronte dell'eliminazione dei dati e allora la domanda a questo punto è molto semplice perché dobbiamo occuparci da archivisti anche di gestione procedimentale anche di procedimenti amministrativi beh perché per esempio il fascicolo procedimentale che è uno dei fascicoli più importanti per le organizzazioni pubbliche ha una tempistica di conclusione che guarda caso coincide con l'ultimo atto o l'ultimo documento amministrativo che chiude il procedimento quindi per esempio volendo fare un monitoraggio dei tempi di selezione posso partire tranquillamente dai procedimenti amministrativi non soltanto secondo punto se io non ragiono in termini di unità archivistiche legate al procedimento posso dire addio a tutte le belle parole posso dire addio alla concretezza di tutte le belle parole che riguardano l'ostensione e l'esercizio del diritto d'accesso e da ultimo come esiste un responsabile del fascicolo o anche un responsabile del procedimento amministrativo e questo è una cosa fondamentale guardate le tre fasi del procedimento la preparatoria la costitutiva e l'integrativa dell'efficacia nella fase istruttoria c'è la nomina di un responsabile del procedimento amministrativo e questo responsabile del procedimento amministrativo ha anche potenzialmente la possibilità di arrivare all'atto finale o di mandare a un sub procedimento deliberativo e poi via via la fase di controllo la comunicazione la protocollazione la pubblicazione la repertoriazione e quant'altro ma il responsabile del procedimento amministrativo ha una serie di verbi cinque verbi all'inizio di ogni paragrafo dell'articolo 6 che adesso vediamo che riguardano esclusivamente la gestione documentale esaminiamoli insieme il responsabile del procedimento valuta ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità eccetera eccetera e li valuta tramite i documenti amministrativi accerta lettera B d'ufficio i fatti compiendo gli atti all'uomo necessari e adotta ogni misura accerta i fatti tramite delle istanze amministrative tramite dei documenti amministrativi propone o se ne ha la competenza indice la conferenza dei servizi ma lo fa tramite un documento amministrativo cura le comunicazioni le pubblicazioni le notifiche e le fa attraverso documenti amministrativi e da ultimo adotta se ne ha la competenza il provvedimento finale oppure rivia agli organi attraverso un provvedimento destinato a trasformarsi in documento amministrativo in conclusione un precipitato semplice ogni attività procedimentale è legata intrinsecamente alla gestione documentale perché tutti gli atti amministrativi in base a quel principio di documentalità inseriti nei procedimenti amministrativi diventano per legge codice civile articolo 2699 documenti amministrativi e non dimentichiamoci che il fascicolo archivistico è un output trasversale che non dipende dai singoli uffici dalle war unità organizzativa responsabile ma ha una logica di processo in questo caso quindi quando noi agitiamo due parole fondamentali fascicolo e procedimento sappiate che l'uno fascicolo è la conseguenza dell'altro del procedimento amministrativo come si mappa un procedimento è niente di più facile si mappa tramite la legge perché già il decreto trasparenza ci diceva puntualmente puntualmente che cosa che cosa deve inserirsi in una tabella procedimentale qui trovate l'articolo 35 del FOIA del decreto 33 del marzo del 2013 l'elenco dei dati che devono far parte del fascicolo di procedimento anche in questo caso vedete c'è una scansione c'è una enucleazione molto precisa su questo tipo di attività andate a leggere troverete le slide nel sito qual è la cosa fondamentale da un certo punto di vista bene se io voglio descrivere monitorare ma anche certificare un processo devo avere delle evidenze perché la certificazione di processo non è un qualcosa che si fa a voce ve l'ha detto prima il dottor Vezzi Gabriele si fa attraverso evidenze documentali quindi anche in questo caso i ragionamenti che noi facciamo sulla gestione documentale passano in maniera interrelata tra tutte le azioni che noi svolgiamo guardate io faccio una mappatura molto semplice di un procedimento amministrativo che esiste nelle università e che riguarda i corsi di protezionamento e usiamo le tecniche di colore qui lo trovate in grigio guardate coloriamo in azzurro i documenti di questo procedimento coloriamo in blu in indaco le attività e coloriamo in arancione i procedimenti quindi diamo la versione a colori diciamo del procedimento e trovate il procedimento completo con tutte le sue diramazioni è faticoso farlo ma è indispensabile se uno vuole arrivare non soltanto a un BPR a una business process engineering ma anche a un minimo di controllo di gestione che è dato proprio da una corretta gestione documentale e allora mentre la diplomatica e il diritto amministrativo si occupano di documentazione amministrativa l'organizzazione e il management si occupano di agire e dell'organizzazione questo come si concilia e guardate che mentre la documentazione amministrativa ha una descrizione tabellare sequenziale lo abbiamo appena visto nell'articolo 35 del decreto 33 del 2013 la gestione per processi si fa attraverso diagrammi di flusso attraverso del modeling del design non dico uml case ma qualcosa del genere in punto concorsi che è l'altro libro che vi segnalo anche questo è messo a disposizione gratuitamente quindi ancora qua non faccio pubblicità abbiamo mappato il procedimento concorsuale io ho fatto un'attività molto semplice legata alle distinzioni alle precivo attività tra archivistica diplomatica e diritto amministrativo propone le procedure concorsuali partendo dal procedimento amministrativo un'ultima domanda molto spesso sentiamo parlare della fa molto chic fa molto influencer come diremmo oggi parlare di semplificazione ne parlano tutti ma la semplificazione passa dai procedimenti amministrativi? guardate questa nota del ministero dell'interno di qualche anno fa è vivamente sentito il bisogno di fondare le basi di un sistema razionale mediante il quale ricondotte l'amministrazione nelle sfere delle attribuzioni che le appartengono possa essere più semplice più spedito e più facile il procedimento voi che state seguendo questo seminario mettete nella chat la data di riferimento di questa norma secondo voi 1990 1940 quello che volete voi provate a scrivere la data di riferimento di questa nota sulla semplificazione del ministero dell'interno vedo che sta già arrivando qualcuno vi ringrazio però visto che abbiamo poco tempo lo faccio subito siamo nel 1868 è Cadorna che fa una relazione alla Camera dei Deputati quindi noi stiamo parlando di semplificazione dei procedimenti diciamo da qualche anno ma perché è irrisoludibile? perché mentre posso semplificare le procedure e i processi non posso semplificare i procedimenti amministrativi per una ragione molto semplice perché i procedimenti sono previsti da una norma o cambio la norma altrimenti i procedimenti amministrativi resteranno sempre quelli tornando all'esempio di punto concorsi ve lo faccio breve perché tutti quanti avete a che fare con i concorsi il concorso è regolato oggi dalla 487 se non ricordo male prevede una serie di attività allora bando atto amministrativo domande dei candidati documenti amministrativi non atti nomina della commissione verbali della commissione decreto di nomina del vincitore o di indicazione del vincitore io non posso eliminare questi passaggi perché sono procedentalmente obbligati dalla legge ma posso modificare le procedure per esempio anziché mandarla con raccomandata a mano o per posta usa la PEC uso il portale e quant'altro invece di farlo fare l'ufficio concorsi lo faccio fare all'ufficio organizzazione quindi cambio il processo anche a parità di procedure ma la protocollazione procedura rimarrà sempre quella indipendentemente da chi lo fa cioè dal processo ecco qui siamo di fronte proprio a questa scansione e quando cambia il sindaco quando cambia il segretario generale non cambiano i procedimenti amministrativi che sia una variante urbanistica che sia la pubblica istruzione che sia quello che volete voi le cose da agire cioè l'attività amministrativa da Roma a Osta a Palermo è sempre la stessa rimane immutata pur mutando il chi la fa il chi la governa le procedure quindi l'attività procedimentale rimarrà sempre la stessa indipendentemente dal che cosa si fa e dal chi la fa e poi soprattutto un'altra bufala ogni tanto mi sento dire bisogna accorpare semplificare i procedimenti renderli renderli uso questo termine proprio quasi ignoto mi beccherei 100.000 euro se lo dicessi assurdità di questi di questi ultimi tempi per i procedimenti la legge non prevede cluster ecco l'ho detto in mancanza in mancanza di una norma sanzionatoria non prevede cluster ogni procedimento deve essere enucleabile e allora la corruzione si annida nei processi e non nei procedimenti amministrativi perché la documentazione amministrativa è trasparenza perché nel momento in cui fisso su un documento amministrativo un atto lo rendo intrinsecamente trasparente invece le organizzazioni i giri che fanno le organizzazioni non sono legati alla trasparenza anzi sono più legati alla evanescenza mentre la documentazione amministrativa per suo ruolo per intrinseca natura è legato alla persistenza i documenti restano le azioni non vengono non vengono memorizzate e allora due conclusioni le attività di organizzazione di bpr di management di processi ogni tanto il manager che deve parlare in modo forbito deve usare organizzazione trasversale per processi sono infinitamente più accattivanti della gestione archivistica ma se voi ricevete un'ispezione di ANAC della corte dei conti non potete dire sì non abbiamo fatto il documento come si deve non la delibera il decreto l'ordinanza la determina non è stata fatta però eravamo organizzati per processi alla perfezione ecco la gestione documentale salva la vita salva le vostre terga se è fatta bene non posso andare a ritroso a dire ma eravamo organizzati benissimo quindi questo è l'indirizzo grazie ancora a Formez PA e ad Agid della ospitalità grazie a te Gianni grazie per aver sottolineato ampiamente con la solita tua estrema competenza e attenzione quali sono questi pezzi che spesso si sottovalutano molto ma devo dire molto della gestione documentale dei documenti e degli archivi adesso per finire sono arrivate numerose domande alle quali adesso vi inviterò a rispondere richiamo anche gli altri relatori e insieme a loro anche Luigi Avena e saluto intanto nel frattempo anche Enrica Massella di Agid che ha come dire permesso e consentito con Agid questi corsi questo webinar eccola qui Enrica è comparsa grazie Enrica e ho ascoltato veramente con grandissimo interesse gli interventi fatti dai nostri relatori e grandissimi amici con i quali collaboriamo ormai da anni e che ci hanno dato modo di esaminare a 360 gradi questa tematica che come hai detto anche tu viene spessissimo tralasciata dimenticata e non tutti in qualche modo si rendono conto della sua importanza proprio per una corretta gestione all'interno del proprio ente però lascio la parola a loro soprattutto per tantissime domande grazie mille Enrica e allora adesso vi pongo le prime domande che tra l'altro sono tutte abbastanza molto pertinenti e che rivelano sempre continuano a rivelare partecipazione interesse e la prima domanda che rivolgerei in ordine appunto a Mariella Guercio poi magari a rotazione ci possiamo rispondere tutti la competenza del responsabile della gestione documentale deve essere accertata sulla base di specifici titoli di studio ovvero il responsabile della gestione deve necessariamente possedere una laurea in archivistica informatica o in giurisprudenza o a questo punto in organizzazione potremmo anche dire per aggiungerne un'altra allora posso rispondere innanzitutto sicuramente c'è una formazione una parte di apprendimento formale che deve essere acquisito non c'è una laurea unica per capire meglio è un settore rispondere a questa domanda molto complesso spero che mi sentiate perché ho saputo che durante la mia relazione c'è un fruscio fastidioso spero che non ci sia più credo che sia legata la connessione per rispondere a questa domanda bisognerebbe appunto ragionare sui termini di crediti universitari di crediti formativi non c'è una laurea specifica ci sono delle lauree o dei percorsi di specializzazione che facilitano e che sono finalizzati proprio all'acquisizione di queste competenze a di alto livello ci sono lauree che di livello magistrale che poi dovranno essere comunque perfezionate con delle attività formative specifiche che può essere appunto un master come quello di macerata che è un master annuale molto molto ben organizzato e completo nel prevedere tutte le componenti che abbiamo visto il percorso di revisione della norma uni e anche finalizzato per spinta europea l'Europa ci chiede anche di allargare e di consolidare i percorsi informativi questa revisione della norma abbiamo proprio cercato di ampliare la base di formazione formale quindi non una laurea necessariamente ad hoc ma la possibilità di partire da un percorso di un certo tipo che abbia o competenze giuridiche informatiche o di tipo archivistico che però poi si è integrata da un livello di ulteriore in qualità e in quantità tale da garantire le conoscenze tutte le complicate come avete sentito conoscenze e abilità che sia la figura della gestione documentale che la conservazione devono avere ci sono ovviamente spinte contro spinte di interessi di impressioni di volontà di avere un livello molto alto di formazione per il personale tecnico di questo tipo si tratta di trovare veramente giusto equilibrio per proteggere le memorie documentali per proteggere le amministrazioni e il settore privato l'ha citato Gianni prima colgo l'occasione per dire che non è solo un problema di pubblica amministrazione avere personale di questo tipo certo la via lo deve avere perché c'è il problema dei procedimenti c'è il problema della trasparenza è un problema più pesante di rendicontazione e la rendicontazione si fa attraverso la produzione gestione e conservazione di documenti come Gianni ci ha mostrato ci ha indicato ecco voglio far perdere per perdere appogliati colleghi più che altro grazie Mariella più che altro era più che altro il tempo per rispondere a tutte le domande che continuano ad arrivare ci sono anche colleghi che vi ringraziano molto per esservi formati da soli sui vostri libri quindi mi sembra doveroso passarvi questi messaggi grazie anche da parte mia comunque anche io mi sono formato io sono tuoi ah va bene Mariella non arrossire non arrossire allora scusate io vado avanti che il tempo il tempo è sempre tirannissimo e c'è una specifica rispetto a quello che ha detto Mariella sulla differenza tra record manager e ruolo di responsabile della gestione documentale e però magari se volete includetelo voi in un'altra delle risposte che darete a breve perché poi alcune si assomigliano due o tre domande che metterei insieme fanno riferimento agli enti piccoli cioè c'è una questione che viene fuori ormai da tempo sui piccoli comuni questo non solo per la gestione documentale ma insomma sulle scuole e sui piccoli comuni spesso trascurate ma spesso che devono fare molto più che di necessità virtù e trovare convogliare magari le forze in un'unica figura nel caso delle scuole sul dirigente scolastico o nel caso dei piccoli comuni sulle figure che trovano ecco chi vuole rispondere a questa a questo tipo di forse passiamo a Gabriele o a Gianni se volete le dico qualcosa noi siamo nati come polo archivistico dell'Emilia Romagna proprio per sostenere e sosteniamo anche ad esempio la conservazione delle scuole proprio per dare un supporto a tutte queste strutture piccole che in realtà non riescono ad avere tutte le professionalità specifiche e il tema conservativo ovviamente permette anche di fornire un supporto sul tema gestione documentale e quindi questo è l'elemento l'altra cosa il termine record manager in realtà è il termine inglese che è la definizione inglese di un italiano responsabile per la gestione documentale il termine record in inglese records è in realtà tradotto in italiano come documento amministrativo evitiamo poi il termine record come tanti termini ha delle sue ambiguità qualcuno pensa che siano la linea di registrazione della banca dati che è l'uso che si ha in informatica ma il termine appunto è gestione documentale la traduzione corretta nel senso anche generale della visione inglese e quindi come tanti problemi di terminologia come diceva anche Gianni Penzodoria sono importanti ecco quindi bisogna capire definire questi aspetti per avere anche un altro elemento appunto di conoscenza è una condivisione e una generale del proprio del linguaggio che sono linguaggi anche tecnici ma a volte vengono anche degradano a gergo che invece invece che di far capire rischia di far più confusione faccio solo una chiosa se posso Alessandra certo prego aggiungo rispetto a quello che diceva correttamente Gabriele poco fa che da noi in Italia le linee guida Agid hanno messo sotto l'etichetta gestione documentale tutto tutto il ciclo di vita dei documenti il fatto che il mondo anglosassone nordamericano ma anche australiano divida il records manager records come documento archivistico non come document management qualsiasi documento ma documento archivistico che noi potremmo tradurre anche tranquillamente con documento amministrativo ma non solo perché comunque nel mondo privato non c'è il documento amministrativo c'è la parte di archivist c'è la parte che si occupa degli archivistovici e devo dire che c'è una quasi separazione parliamo di archivio presso le quali doveva esserci un laureato comunque un diplomato della scuola di archivistica palliografia di diplomatica perché separato non voleva dire con una cesura netta nel ciclo di vita dei documenti ma diciamo da qualcuno che non appartenesse al ciclo di formazione dei documenti a garantire quella che noi chiamiamo la terzietà la trust quello che ci rende in qualche modo neutrali verso la conservazione dei documenti archivistici questo era era doveroso in questo caso Aged ha messo correttamente secondo me nel ciclo di vita tutto tutto il percorso e non soltanto un frammento del ciclo di vita del life cycle dei documenti si posso aggiungere posso dire solo una cosa la risa record manager è proprio come archivista non è il responsabile della gestione che è una figura specifica anche il professionista che lavora per l'amministrazione e per il responsabile della gestione documentale che ha una competenza specifica nell'area proprio della gestione documentale quindi il responsabile della gestione documentale è come abbiamo giustamente sottolineato Gianni una figura che quando si si già negli anni nel 98 99 quando si cominciò a scrivere la prima norma di riferimento e poi diventata il testo unico approvato con DPR 445 del 2000 sul documento amministrativo lì la figura era proprio una figura che dovesse partire dalla formazione del documento dell'archivio per arrivare a guidare le fasi successive di gestione con questa capacità comunque essendo un tecnico di terzietà di con una capacità anche di avere una visione che va al di là del singolo interesse immediato della pubblica amministrazione dell'ente che produce i documenti con l'obiettivo di portare questa memoria anche alla conservazione futura per le generazioni che verranno grazie a tutti io mi permetto di aggiungere una cosa anch'io stavolta volevo sottolineare un altro aspetto delle competenze delle conoscenze che forse è estremamente sottovalutato l'ho detto all'inizio ma ci tengo a ripeterle in questa fase soprattutto di grandi cambiamenti di trasformazioni digitali le conoscenze dare più peso a mio avviso alle conoscenze che tutti devono avere non solo chi opera nel settore specifico cioè tutti tutti a diverso livello per ciascuno per il suo ambito di competenza e deve sapere che cosa vuol dire un documento digitale e questo a mio avviso è piuttosto sottovalutato quindi competenze e conoscenze per il responsabile per il suo ufficio anche per il responsabile della transizione digitale ma soprattutto sviluppo delle competenze digitali un po' quello che è stato fatto anche con il consiglio citato da Mariella ma che sia più incisivo che sia direi quasi obbligatorio perché altrimenti la gestione successiva ne risente pesantemente volevo chiudere se mi permettete con un'interessante domanda asserzione diciamo di Walter Francesco che si ricollega in parte anche alla proposta della comunità di pratica adesso vediamo perché che appunto chiede se è stato fatto mai un sondaggio per confrontare le competenze desiderate delineate così bene in questa lezione e le competenze effettive dei responsabili della gestione documentale nelle pubbliche amministrazioni del nostro paese Valentina Corona ha risposto che appunto in chat di andare a guardare il relativo sondaggio il simile sondaggio effettuato per gli RTD ma appunto e quindi ce lo andremo tutti a guardare grazie Valentina ma appunto chiedo a voi se appunto magari anche in ambito di procedamus per esempio è stato portato avanti qualche cosa del genere sì lo posso dire solo una cosa forse potrebbe dirla nei colleghi di Agid che un'attività in corso di sondaggio proprio su questo terreno è stata via nell'ambito del gruppo di lavoro che si è appena concluso con il supporto di alcune regioni che partecipano appunto ai gruppi di lavoro proprio per vedere la differenza che c'è tra dire e fare anche tra le linee guide tutte le loro indicazioni molto concrete per certi diversi ma comunque impegnative da parte delle amministrazioni piccole posso aggiungere che le amministrazioni grandi spesso e volentieri stanno peggio di quelle piccole perché ci sono interi ministeri che non hanno nell'amministrazione centrale neanche un responsabile della gestione documentale formato con competenze archivistiche magari giuridiche ma non archivistiche quindi il problema è molto sentito io spero che una comunità di pratiche dal basso possa porre i problemi dei grandi dei piccoli al momento giusto nelle sedi giuste insomma sì Alessandra sì è stato fatto però soltanto per gli archivi storici è stato fatto in due momenti il primo intorno al 2001 2002 e ne scaturì questo volume che è primo rapporto sugli archivi universitari archivi storici però perché in quegli anni eh avevamo mappato il fatto che pur essendovi archivi dichiarati di particolare importanza non vi fossero archivisti alla guida degli archivi universitari ed era eh sì ed è stranissimo perché lo slogan che lanciai all'epoca fu le università che non tutelano gli archivi non tutelano la storia come fanno a insegnare la storia se non tutelano la propria tutti arrabbiati con noi all'epoca ma venne fuori una bella indagine l'ultima in ordine di tempo riguardava sempre gli archivi storici e con la nomina del 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 Tuda del 445 vi fu una prima esperienza di censimento di chi era il responsabile degli archivi correnti del tecnicamente del prototone dell'ora ma non fu mai pubblicata perché il quadro che ne usciva fuori era desolante quasi drammatico devo dire all'epoca c'era un solo dirigente come prevede la norma in tutte le oltre 100 università italiane è un dirigente che conosco abbastanza bene va bene ho questa nota di ottimismo chiudiamo facciamo un ultimo dire adesso mi riallaccio a quello che diceva Rita e Luigi eh sì sì solo una cosa sì siamo come diceva la professoressa Guercio abbiamo lavorato sulla predisposizione di un questionario che doveva essere online già da un po' di tempo poi diciamo per una serie di questioni di adeguamento siccome siamo in evoluzione diciamo sto questionario è fermo immaginiamo che a breve potrebbe essere somministrato alle amministrazioni perché diciamo è un momento in cui eh ci sono delle cose che riguardano la gestione documentale in movimento quindi eh dobbiamo un attimo rivalutare e poi ehm come dire il questionario era proprio sullo stato di applicazione delle linee guida all'interno delle amministrazioni e diciamo ormai è passato più di un anno eh da quando sono in vigore quindi per capire effettivamente anche problematiche che hanno trovato eh diciamo anche a basso livello non 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 esattamente diciamo entrando troppo nello specifio però l'idea è quella di cercare di capire cosa è successo in quest'anno e anche prima visto che devono adeguarsi un po' prima quindi non è riferito esclusivamente alle competenze alle conoscenze è un po' più complessivo se sono presenti le figure se hanno è interessante farlo sulle competenze sulle conoscenze e poi proporre anche in alternativa immediatamente delle possibilità di formazione perché se no c'è un dato così il discorso è devi intercettare più di 20.000 ora che non risattimo me li perdo no 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 ma non stavo parlando di quello che state facendo dicevo in generale per rendere completo un flusso del genere questa è proprio un'altra cosa che stavo dicendo ma infatti questo è diciamo potrebbero essere delle ulteriori domande da aggiungere visto che comunque nel tema se avete i responsabili se avete bisogno ha bisogno dai fai bisogni formativi alla formazione dicevo io sostanzialmente insomma una cosa piuttosto classica qualcosa di questo tipo abbiamo messo ora ripeto un working progress allora se voi se non avete altro da aggiungere il tempo ci stanno ancora seguendo in moltissimi e devo dire siamo ancora in 500 collegati nonostante l'orario e quindi un altro un altro segnale io non so se Enrica vuole concludere appunto io ringrazio tutti quanti i partecipanti i relatori i relatori di tutto il corso fino adesso che magari ci stanno seguendo anche loro le mie colleghe la responsabile della linea di attività per il Formez la mia collega Sabrina Onano e tutto lo staff tecnico che ci sta seguendo e che come si dice ha reso possibile tutto ciò anche è un'altra cosa veramente concludo con i ringraziamenti che ancora grazie 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 a Mariella Gianni e Gabriele per questo interessantissimo webinar che sta ricevendo dei complimenti proprio enormi quindi se uno legge la chat fa veramente piacere e grazie comunque al Formez che ha permesso che tutto questo fosse possibile grazie a tutti d'accordo allora a presto ciao Sabina ecco è comparsa anche Sabina ciao ciao a tutti vuoi dire qualcosa? grazie grazie ciao arrivederci grazie a voi grazie a voi